una fila c'è un certo che la tira giù perché vuole farci vedere che di sotto di quella maglietta, di quella marcellina c'è una magna, una magna che quest'anno ha compiuto con banchagli, signori e signori, in magna non è così, tutto sono, ancora di più che sono, non va a vincere, non va a dominare, non è così bene, è così bene, non è così Grazie a tutti 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 Grazie a tutti